Un saluto cordiale a tutti. In questa seconda catechesi vogliamo riflettere sulla seconda lettura che ci viene offerta nella liturgia della parola della Messa in Cena Domini del Giovedì Santo. È data da un brano della lettera di San Paolo ai Corinzi, nel quale viene ricordata l'istituzione della Eucaristia fatta da Gesù. Leggiamo il testo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù nella notte in cui veniva tradito prese del pane, dopo aver reso grazie lo spezzò e disse, questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pago e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Parola di Dio. Come abbiamo ascoltato, San Paolo precisa il momento dell'istituzione dell'Eucaristia. Dice, infatti, nella notte in cui veniva tradito. Era la notte del 14 di Nisa, in quel primo giovedì santo, in cui Gesù ha celebrato con i Suoi Apostoli l'ultima cena. San Paolo precisa inoltre il momento nel quale è avvenuta questa istituzione. Dice, infatti, dopo aver cenato. Secondo il rituale ebraico di cui abbiamo messo in evidenza nella Catechesi scorsa i momenti principali, dopo aver cenato doveva essere dopo l'ultimo allel e l'assunzione del quarto calice. San Paolo racconta poi come è avvenuta questa istituzione. Gesù prese il paneazzimo che era sulla tavola, rese grazie. Lo spezzò e disse, questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Il centro dell'istituzione dell'Eucaristia che Gesù stava facendo non era più dato dal sacrificio dell'agnello, ma dal suo corpo offerto in sacrificio sulla croce. Era lui, infatti, il nuovo vero agnello di Dio che si è immolato, sacrificato sulla croce, ha versato il suo sangue. Questo era il nuovo memoriale che d'ora in poi Gesù chiedeva ai suoi dicevoli di celebrare. Dice infatti Gesù, fate questo in memoria di me. San Paolo continua il racconto dell'istituzione dicendo, allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Tenendo presente il rituale ebraico stabilito dall'aggadà, questo era il quinto calice, quello che era stato riempito, riservato al Messia. Prendendo questo calice, Gesù allora si rivela come il Messia che deve venire con grande chiarezza. Gesù, infatti, continua. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. È importante cogliere come San Paolo sottolinea che Gesù con l'Eucaristia istituisce la celebrazione di una nuova alleanza. Un'alleanza non più con il sangue dell'agnello, come la prima, ma con il suo sangue che ha versato sulla croce. Un'alleanza nuova che chiedeva di vivere una nuova legge, la legge dell'amore, secondo il comandamento dato, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. E questo viene in modo particolare messo in luce da San Giovanni nel racconto dell'ultima cena nel capitolo tredicesimo, che mediteremo nella terza catechesi, dove San Giovanni indica la finalità per cui Gesù ha istituito l'Eucaristia e poi la chiarisce ancora meglio riportando quanto Gesù ha detto agli Apostoli dopo aver istituito l'Eucaristia, raccogliendo in ben quattro capitoli dal quattordicesimo al diciassettesimo le parole di Gesù che descrivono la nuova legge dell'amore, che i discepoli erano chiamati ad riservare. Rifletteremo questo nella terza catechesi. Ci limitiamo ora a cogliere da San Paolo due spunti per la nostra partecipazione all'Eucaristia, che sia secondo come vuole il Signore Gesù. Il primo spunto ci viene suggerito dall'ultimo versetto del brano della lettera ai Corinzi che abbiamo meditato. Dice infatti San Paolo, ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Nella celebrazione eucaristica noi ricordiamo questo versetto dopo la consacrazione. Il sacerdote dice mistero della fede e i fedeli rispondono «Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta». È una risposta, un'acclamazione che è chiaramente ispirata da quanto San Paolo dice nella lettera ai Corinzi, con l'aggiunta dall'annuncio della morte e anche la proclamazione della risurrezione. Ma quello che vogliamo rimarcare è che nella Santa Messa noi dobbiamo essere attenti al mistero di fede che si celebra. Non dobbiamo essere attenti in primo luogo a ciò che facciamo noi, i canti, le parole che diciamo, i fiori, i paramenti, eccetera. Dobbiamo essere attenti a riconoscere, ad accogliere il Signore Gesù che si rende presente, che rinnova per noi quanto ha fatto nel Cenacolo con gli Apostoli, che si rende presente sull'altare con il suo corpo, con il suo sangue. Gesù che ci vuole rendere participe della grazia, della sua morte e risurrezione, del suo amore. E noi siamo chiamati a riconoscere, ad accogliere questa grazia, a corrispondervi con tutto noi stessi, con la nostra vita che è chiamata a lasciarsi trasformare, così da diventare testimoni, discepoli che annunciano la morte del Signore e proclamano la sua risurrezione. Il secondo spunto lo cogliamo dal contesto nel quale San Paolo ha collocato il ricordo della istituzione dell'Eucaristia. Infatti San Paolo si trova a dover rimproverare i Corinzi per la loro celebrazione che non corrispondeva a quello che il Signore aveva chiesto. Essi infatti erano divisi fra loro, in fazioni, che facevano capo a vari leader, Apollo, Cefa eccetera, generando invidie, gelosie e marginazioni, specialmente verso i poveri. I Corinzi si erano dimenticati che i cristiani erano chiamati a seguire Gesù crocefisso, a vivere la loro vocazione in spirito di servizio umile nella comunione ecclesiale, non a servizio di se stessi, della propria affermazione, ma con l'impegno a costruire la comunione nel corpo di Cristo, ad essere di edificazione gli uni gli altri, ad essere a servizio gli uni gli altri. Ecco dunque il richiamo forte di San Paolo a vivere l'Eucaristia come vuole il Signore Gesù, non come una semplice cena di una comunità divisa in cui ciascuno vuole affermare se stesso. Subito dopo il racconto della istituzione dell'Eucaristia nel brano che abbiamo letto, San Paolo dice con chiarezza, perciò chiunque in modo indegno mangia il pane e beve il calice del Signore sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno pertanto esamini se stesso, poi mangi di questo pane, beva di questo calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Al capitolo 10 della Lettera ai Corinzi San Paolo ribadisce che la comunione eucaristica chiede una precisa consapevolezza ed un impegno alla comunione ecclesiale. Infatti dice San Paolo, parlo come a persone intelligenti, giudicate voi stessi quelle che dico. Calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Perché c'è un solo pane? Noi essendo molti siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Sono richiami importanti quelli di San Paolo, quanto mai attuali anche per noi, per le nostre celebrazioni eucaristiche. È presente talvolta e diffuso un certo individualismo, indifferenza gli uni verso gli altri. Si è in tanti a celebrare l'Eucaristia, ma ciascuno per conto suo non ci si preoccupa di fare comunione, di rispondere alla sollecitazione di Gesù a vivere l'amore e il servizio, come egli chiede. Si ha l'impressione talvolta che qualcuno partecipi alla messa in modo passivo, semplicemente ascoltando messa per soddisfare ad un dovere religioso, sentirsi poi a posto. Si ha l'impressione che talvolta che qualcuno si accosti alla comunione eucaristica in modo individualistico, come ad un self-service del corpo del Signore. Ma Gesù chiede invece che ci si faccia servi gli uni degli altri, che ci si ami secondo il comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato. È quanto cercheremo di comprendere nella Terza Catechesi, che sarà dedicata al racconto di San Giovanni nell'ultima cena fatta da Gesù con gli Apostoli nel Cenacolo. Grazie a tutti voi che avete ascoltato.